Aldo Montano, campione olimpico, 3 secondi, 14-11, e tocca Valentina Vezzali, 15-11, medaglia d'oro, campionessa olimpica ancora, 4 anni dopo Sidney. Quanti ragazzi sono cresciuti con il sogno di diventare il nuovo Aldo Montano o la nuova Valentina Vezzali? Solo per citare alcune delle eccellenze della scherma italiana, pochi sinceramente nel paese in cui tutti nascono con l'idolo Totti, Del Piero o Roberto Baggio. Eppure la tradizione dice tutt'altro, l'Italia è uno dei paesi più forti, sempre sul podio alle Olimpiadi e a mondiali. Nonostante questo, in totale nella nostra nazione si contano circa 19.000 tesserati, un bottino abbastanza magro considerato lo spessore e la qualità degli atleti. E proprio sulla qualità punta anche la Podgym Punto Netto di Avellino, capitanata da Carmelo Alvino, che da diversi anni ha avviato un buon percorso che ha visto anche numerosi iscritti. Noi abbiamo tutte e tre le armi, la scherma ha le sue tre discipline che sono la spada, il fioretto e la sciabola. Adesso stiamo vedendo in allenamento gli spadisti e i fiorettisti da questa parte, mentre dopo inizieranno anche gli sciabolatori. Quindi è una scuola completa nelle tre armi. L'attività inizia dalle basi, come ogni sport, con un settore giovanile che avvia i ragazzi alla disciplina e solo successivamente alla scelta della cosiddetta arma. Partono dai cinque anni, quindi col settore giovanile dove fanno l'avviamento alla scherma e poi dopo qualche mese vengono messi nella specialistica e quindi identifichiamo l'arma più idonea per loro e li portiamo avanti nel percorso formativo dell'arma. Come ogni attività che si rispetti, la Podigym partecipa anche ai campionati che sono partiti già nei mesi scorsi. Noi già siamo in piena stagione di gara, abbiamo svolto la prima fase interregionale ad Ariccia nel mese di ottobre, nel fine ottobre. Poi abbiamo fatto la nazionale a Mazzara del Vallo con la sciabola, abbiamo fatto i campionati italiani cadetti a Foggia. Abbiamo un po' tutte le categorie, quindi siamo impegnati un po' su tutti i fronti e quasi tutte le domeniche.